Tutti e ben ritrovati su Dark Vanities Come potete vedere C'è un vascello pirata, un galeone per esattezza Devo stare fermo anche se sto fluttuando come il mare Come vedete la fotografia che ho scelto per questo video è diversa Perché vedete una sorta di tramonto, colori caldi, colori saturati Mentre di solito su Dark Vanities tendiamo a usare una colorazione cupa